In situazioni in questo periodo storico, fatto di un'escalation di furti, di rapine nelle case, nel negozio, negli appartamenti, magari assiditati a quella di svuotacacaccia, per qualità anche di presentare proprio oggi questo PDL quando ieri il Parlamento ha approvato definitivamente, credo, questo indesivo provvedimento che libera dei riquanti per la strada, dà l'idea di quanto vogliamo essere concretamente a difesa dell'agente onesta che vive e lavora Lombardia. Nella sostanza cosa facciamo? Proponiamo istruire un fondo regionale a sostegno dei cittadini lombardi colpiti da criminalità, questa è la dominazione riportata dall'articolo 1, che serve comunque garantire le risorse per il patricione gratuito, per il sostegno gratuito di coloro che hanno una soglia di reddito superiore al limite previsto sotto il quale già il patricione è fatto dallo Stato, fino a una soglia massima di 70.000 euro, quindi cerchiamo di, come dire, toccare, coinvolgere e proteggere quelle cittadini lombardi più esposti per quanto possono essere spese legale o anche le conseguenze di minor reddito derivante dal fatto che uno magari che viene indagato o arrestato o subire un processo per l'accesso dei cittadini difesa può avere quindi percussione in termini di riduzione dell'attività lavorativa, quindi minore introdotto in termini di redditi da lavoro, garantendo quindi questo patrocino per ogni fase del giudizio. Vogliamo stare vicino, tutelare e dare una copertura legale a quei lombardi onesti, cittadini, commercianti, la cronaca ne è piena, che hanno dovuto difendersi nei confronti di aggressori, di ladri, piombati durante la notte in casa proprio, dopo l'ennesimo furto nel proprio negozio, perché qualcun altro non li ha difesi e si trovano poi a subire processi ingiusti che durano anche anni per eccesso del giudizio di difesa. Il giudizio di difesa è difficilmente definibile nel caso concreto di quello che dice il codice come eccessivo o meno, bisogna trovarsi in quelle condizioni psicologiche. Noi vogliamo essere vicino a questa misura che tutelerà con il patrocino legale gratuito tutti quei lombardi che saranno vittime di questa ingiustizia. Una tipologia variegata, lei ha fatto degli esempi, non solamente comuni e cittadini, ma anche forze dell'ordine. Il caso di questi tre carabinieri in provincia di Bergamo, che sono coinvolti in una sparatoria durante un tentativo di furto in un negozio, la sera, la notte, con tre delinquenti, sono trovati a essere indagati per il cesso del giudizio di difesa. Cosa avrebbero dovuto fare? Far sparare prima gli altri? Per non essere poi colpevolizzati perché hanno fatto il loro lavoro di tutelare i lombardi. Quindi noi crediamo che sia doveroso richiamare l'attenzione su un aspetto che non funziona. Nella giustizia italiana essere vicino alla gente che vuole legalità e sicurezza. L'ho spiegato che questo si è esteso anche ad altre regioni, c'è però già il Veneto che ha preso un provvedimento simile, ha detto. La Lega Nord in Veneto ha depositato un provvedimento simile e quindi noi ci associamo con questo nostro provvedimento ritagliato per i lombardi. L'auspicio è che dal territorio nasca questa iniziativa. Non possiamo lasciare la gente onesta, impunita, non controllata, non sicura a casa loro nel loro lavoro. Si sta diffondendo un senso di insicurezza nei confronti della giustizia e per lì più quando avvengono questi casi come il caso di Serle in provincia di Brescia di qualche mese fa, la gente del paese, del territorio, si stringe a fianco del proprio concittadino vittima in questo caso della delinquenza e anche dell'ingiustizia. Questo provvedimento che avete presentato oggi nasce anche dall'esperienza sul campo? Sì, sicuramente questo progetto di legge si rivolge ai tanti cittadini lombardi onesti che hanno subito furti piuttosto che altre situazioni che si sono dovuti difendere e ripeto che si trovano coinvolti purtroppo in procedimenti penali dovendo sostenere anche le spese legali. Però mi rivolgo anche, la mia esperienza nasce da qui come assessore alla sicurezza dove ho visto in tanti casi la polizia locale intervenire per cercare di, piuttosto che i carabinieri e altre forze dell'ordine intervenire per cercare di assicurare alla giustizia dei criminali e poi vedersi direttamente a loro stessi accusati di aver usato un eccesso nella legittima difesa. Ecco, questo naturalmente va anche nella direzione di una loro maggiore tutela.